Una proposta di acquisto che potrebbe far ripartire i traffici commerciali del porto è quello che ha inviato la cooperativa CIRPE che vuole acquisire una gru dell'autorità portuale. Riparte da Budanza in Burundi la missione della fondazione Andare Oltre, Ollus è composta da importanti personalità dell'ASA di Roma 4. L'equipe partirà sabato per l'Africa. Non solo l'apertura della nuova sede di Civitavecchia in via Bramante, l'osservatorio ambientale ha iniziato anche un quotidiano lavoro di informazione sullo stato della qualità dell'aria nel territorio. Serata speciale domani al Traiano con il concerto benefico dei lati di carrozzelle e la band musicale con diversamente abili in favore dell'associazione Il Mondo di Gina. Chance importante per Michael Magnesi, la convention in Uzbekistan ha deciso che il lupo solitario dovrà combattere in Giappone per l'eliminatoria del titolo mondiale Gold. Buonasera, ben tornati alla nostra edizione del Telegiornale. Iniziamo subito con il lavoro, con una buona notizia, si spera, che si aprono nuovi scenari sul futuro dei traffici commerciali nel porto di Civitavecchia. La cooperativa CILP ha infatti acquisito una gru che era stata messa in vendita dall'autorità portuale e punta ad avere in concessione la banchina 26, la cui da realizzazione definitiva è prevista per la prossima primavera. Il presidente della CILP, Enrico Luciani, auspica che i tre approdi commerciali vengano affidati ad altrettanti imprese locali che attraverso una sana competizione, ma collaborando fra loro, potrebbero rilanciare l'intero settore in crisi ormai da anni. Vediamo. È scaduto ieri il termine fissato dall'avviso pubblico apparso il 16 ottobre scorso sul sito istituzionale dell'autorità portuale e nel quale si rendeva conto della manifestazione di interesse avanzata dalla cooperativa CILP di acquisire la gru Reggiane MHC 5000 appartenente al patrimonio dell'ente e che messa precedentemente all'asta non aveva ricevuto alcuna offerta. Adesso dunque la proposta di acquisto c'è e il fatto che arrivi da un'impresa locale suscita particolari curiosità perché prefigura scenari futuri interessanti in funzione dei traffici commerciali in crisi da almeno 20 anni nel porto di Civitavecchia. Il presidente della CILP Enrico Luciani spiega che vi sono segnali importanti di una certa ripresa e che la sua cooperativa ha in corso diverse trattative per alcuni segmenti nel settore delle merci alla rinfusa. A riguardo aspetta con fiducia che nella prossima primavera si vada all'assegnazione della banchina 26 dove sono tuttora in corso le opere di adeguamento. Per Luciani avere finalmente un altro approdo a disposizione del traffico commerciale può diventare fondamentale in una prospettiva di crescita nel settore delle merci tradizionali. Ricorda che attualmente la situazione vede la banchina 23 assegnata alla Traiana e che la CILP, che si è consolidata negli anni come impresa specializzata nel settore dell'automotive e in quello delle rinfuse, è ovviamente più che interessata ad avere in concessione la banchina 26. Aggiunge poi che se le banchine commerciali da assegnare andassero ad altrettante imprese locali, il porto si caratterizzerebbe ancora di più come quello veramente di Civitavecchia e si potrebbe determinare un'importante e benefica sinergia tra le diverse società. Tra loro deve esistere, conclude Luciani, una sana concorrenza, ma credo che in funzione della ripresa dei traffici commerciali, in crisi da tanto o troppo tempo, sarebbe importante se tra loro non venisse meno uno spirito di collaborazione, di mutuo soccorso in virtù del bene del porto e del lavoro. Una sana e corretta sinergia che sotto il coordinamento dell'autorità portuale potrebbe favorire la tanto auspicata ripresa e il decollo di traffici tradizionali. Non soltanto l'apertura della nuova sede di Civitavecchia in via Bramante, intitolata al compianto professor Giovanni Marsili, l'osservatorio ambientale ha iniziato anche un quotidiano lavoro di informazione sullo stato della qualità dell'aria nel territorio. Attraverso Mare Nostrum Lazio, che riporta per i repiloghi al sito istituzionale di Arpa Lazio, fornisce ogni giorno gli indici di qualità dell'aria relativa alle 24 ore precedenti. Ieri, primo giorno dei report, che ha pubblicato il dettaglio riguardante la giornata di martedì scorso, cioè il 14 novembre. Sotto osservazione l'ozono e il particolato, ovvero il PM10. Proprio riguardo il PM10, osservato speciale perché influisce direttamente sulla salute dei residenti, complessivamente la situazione viene definita buona a Monte Romano, Santa Marinella, Tolfa e da Lumiere, mentre è indicata come discreta a Civitavecchia. In nessuna delle cinque realtà si è andati ad un superamento dei limiti di legge. Nel report giornaliero vengono forniti anche i dati relativi alle singole cittadine ubicate nel territorio, con i valori che, oltre all'ozono e al particolato, riguardano anche i biossidi di azoto e le polviri sottili. Una mozione urgente è inviata al sindaco Ernesto Tedesco per chiedere di realizzare una nuova stazione ferroviaria. È quanto ha deciso di fare la consigliera del PD, Marina De Angelis e Dossatte. Nel documento la consigliera spiega che la vetusta stazione ferroviaria della nostra città è funzionalmente inadeguata, oltre che essere architettonicamente indecorosa, e che da quando è stata realizzata, cioè subito dopo la guerra, è rimasta pressoché uguale. Per questo la De Angelis chiede di aprire al più presto un confronto con le ferrovie dello Stato al fine di realizzare una nuova stazione ferroviaria che risponde in maniera appropriata alle attuali esigenze degli utenti. Riparte da Budanza in Burundi la missione della fondazione Andare Oltre Ollus, nata nel 2010 da un'iniziativa di Piero Petricca, ex primario del reparto di ortopedia del San Paolo di Civitavecchia e Bracciano, e che ha trovato l'immediato sostegno di Francesco Pacini, ex caposala della rianimazione e terapia intensiva dell'ospedale Cittadino. Un'equip composta anche da altri medici e infermieri provenienti da varie parti d'Italia partirà sabato direzione Africa. Obiettivo? Assistere quanti non hanno le risorse per accedere alla sanità privata del Burundi e che hanno problemi di salute, con particolare riguardo a quelli ortopedici legati a malattie congenite e a postumi delle guerre che nel corso degli anni si sono susseguite in quei territori. La fondazione si fa carico di tutte le spese e permette a tanti abitanti del paese, fra i quali tanti bambini, di tornare a camminare sulle proprie gambe anche grazie a protesi che vengono portate dall'Italia o che sono appunto costruite direttamente sul posto. Sentiamo l'intervista a parte di uno speciale che andrà in onda stasera alle 20.45, subito dopo il nostro telegiornale. Riparte la missione della fondazione Andare Oltre, in realtà è l'ennesimo viaggio, dottor Petricca, verso il Burundi perché già solo nel 2023 è la quarta volta che andate in Burundi. Che attività svolgete in questo paese? Svolgiamo fondamentalmente attività medica sanitaria con una predilezione per l'ortopedia perché io sono ortopedico e porto con me spesso molti colleghi ortopedici. In realtà l'attività di volontariato, la mia attività personale di volontariato è iniziata nel 2000 con la fondazione del mio ex primario, il dottor Vincenzo Monti. Poi dal 2010 ho dato vita a questa fondazione Andare Oltre e quindi da allora con la nostra fondazione facciamo due, tre, quest'anno anche quattro, missioni sanitarie che sono fondamentalmente di chirurgia ortopedica oltre che di consulenze, visite, prescrizioni di esami e quant'altro a cui associamo di volta in volta a seconda degli altri specialisti che ci accompagnano interventi di chirurgia vascolare piuttosto che interventi di chirurgia in generale o comunque attività di pediatria a seconda dei medici che vengono con noi. La situazione è sempre da un punto di vista sociale e economico sempre molto precario. Burundi è un paese poverissimo dove c'è una ristretta cerchia di persone che gestiscono il potere e quindi i soldi a fronte poi della stragrande maggioranza della popolazione, soprattutto della popolazione che vive nelle zone rurali, periferiche, in montagna. D'altro canto c'è da dire che la sanità in Burundi come in tutta l'Africa come in gran parte del mondo è a pagamento. Non c'è una sanità pubblica ovunque se c'è è per pochissime cose. Ogni volta che torniamo c'è una realtà sempre uguale perché magari i nostri ospedalizzati ci riconoscono e ci vogliono bene. L'ospedalizzazione lì dura anni. Per loro noi siamo i loro parenti più stretti, ci aspettano. C'è la bimba nuova che ho visto che io, perché mentre lui è tornato io le sono ripartita e quindi è una bimba, uno scricchiolino che praticamente è diventata la proprietaria del nostro abulatorio e che con Piero ha un affetto incredibile. Da una parte speriamo di non trovarla, però non è detto. Prima di andare noi andiamo a fare attività ambulatoriale, prendiamo veramente dagli ultimi. Sono due centri grandi delle suore di Teresa di Calcutta e delle altre suore che sono proprio la periferia più povera. Quindi prendiamo queste persone che hanno bisogno e ce li portiamo in ospedale a Pupanza. Rimaniamo in ambito medico. Si consolida la sinergia fra la AS Roma 4 e l'azienda ospedaliera universitaria Santa Andrea che in questi giorni hanno siglato una nuova convenzione per il potenziamento dell'attività urologica nei presidi ospedaliere dell'AS Roma 4. L'attività urologica già avviata in via sperimentale con un progetto interaziendale nel maggio del 2022 presso l'ospedale Padre Pio di Bracciano, da gennaio di quest'anno è stata potenziata. A Bracciano in aggiunta all'ambulatorio bisettimanale sono state attivate sedute chirurgiche per interventi di bassa e media complessità. Mentre nel presidio ospedaliero del San Paolo di Civitavecchia è operativo un ambulatorio urologico settimanale. Il percorso assistenziale previsto dalla convenzione assicura una presa in carico totale del paziente urologico garantendo presso i presidi aziendali necessità chirurgiche di bassa e media complessità e presso l'ospedale Santa Andrea quelle di alta complessità. Al servizio si accede tramite prenotazione presso gli sportelli CUP aziendali con ricetta medica del proprio medico di medicina generale. Un open day vaccinale dedicato alla popolazione di Civitavecchia è quella che si terrà sabato sulla copertura della trincea ferroviaria nel tratto compreso tra Via dell'Unione e Largo 24 maggio sosterrà un camper vaccinale messo a disposizione dall'ASL Roma 4 e dalla Regione Lazio. Si tratta di una iniziativa che ho fortemente voluto spiega l'assessore ai servizi sociali Deborah Zacchei e che per la quale ringrazio la ASL dalle ore 9 alle 12 sarà possibile farsi somministrare il vaccino anti-influenzale e tutte le vaccinazioni raccomandate. Si tratta di un'opportunità che spero venga raccolta in particolare dalle categorie che sono definite fragili. Serata speciale domani alle 21 al Teatro Traiano diversi da chi è il titolo del concerto che vedrà protagonisti sul palco i ladri di Carrozzelle nota band musicale che ha al centro l'obiettivo di favorire l'inclusività e il talento anche delle persone diversamente abili. All'interno del complesso è presente anche il batterista civita vecchiese Giuseppe Sblendorio. La serata sarà benefica a favore dell'associazione ODV Il Mondo Origina presenterà a Nicoletta Sciret la particolare e la soddisfazione per gli assessorati ai servizi sociali e alla cultura. Ascoltiamo le interviste. D'Apola Zacchei, Enrico Iasischi, concerto importante per quanto arriva della tradizione di Carrozzelle al Teatro Traiano un'iniziativa fortemente evoluta dall'assessore. Si guardi, veramente fortemente dovuta perché mi sto veramente prodigando anche oltre altre cose ma soprattutto sulle associazioni e quelle associazioni che trattano soprattutto i temi dell'inclusione sociale per i diversamenti abili. Quindi quando mi è stato proposto da Giulio Castello questo appunto spettacolo Ladri di Carrozzelle che faceva parte proprio una band di alcuni ragazzi che hanno ognuno delle disabilità diverse mi sono immediatamente prodigata perché questo spettacolo è un tema che mi emoziona perché veramente come diceva appunto prima la signora dell'associazione qui la presidente dell'associazione è un tema proprio che ti tocca veramente dentro quindi ti va a toccare una sensibilità particolare e poi abbiamo utilizzato questo spettacolo anche a fare, abbiamo fatto beneficenza per l'associazione del mondo di Gina perché la presidente mi aveva chiesto se organizzavo uno spettacolo e quindi io ho pensato proprio di coniugare tutte e due, insomma, l'iniziativa alla beneficenza dell'associazione del mondo di Gina. Presidente, una serata in vostro favore perché sono molte le attività che fate e che avete anche aumentato nel corso degli anni. Noi ci occupiamo sia di quelli che oggi si chiamano interventi assistiti con gli animali ovvero la pet therapy in modo particolare con gli asini e poi dal 2018 ci occupiamo anche di reperire gli alimenti per aiutare le famiglie in difficoltà e siamo iscritti per poterle aiutare in modo più incisivo perché le richieste erano sempre tante anche al Banco Alimentare siamo proprio iscritti regolarmente presso il Ministero dell'Agricoltura e Foreste siamo la quarta realtà di Civitavecchia che proprio fa Banco Alimentare in modo regolare anche se le altre tre sono molto più grosse di me noi siamo piccoli ho un gruppo di sei volontarie che mi aiutano per questo e diamo i pacchi regolarmente ogni 15 giorni alle famiglie ci dobbiamo basare sui parametri dell'ISE e questi pacchi contengono per lo più alimenti tipo pomodoro, pasta, legumi a noi le famiglie spesso ci chiedono invece pannolini per bambini, salviettine ci vengono chiesti prodotti per l'igiene personale e a volte ho comprato addirittura facendo dei mercatini materiale scolastico per i bambini cioè le richieste sono tante e sono più disparate e come organizzazione di volontariato lo sapete tutti le Ollus purtroppo sono povere e ci dobbiamo o arrangiare con i mercatini o chiedere aiuto alle istituzioni per queste raccolte fondi per poi utilizzare i soldi per le famiglie finora nel nostro piccolo non ci siamo mai sottratti alle richieste di aiuto anzi tengo a precisare che abbiamo iniziato a luglio come banco alimentare con 50 famiglie perché essendo una realtà piccola secondo noi era un numero già importante siamo arrivati ad assisterne 65 è stato pubblicato l'avviso pubblico per la concessione di contributi una tantum destinati ad attività e iniziative specifiche in area culturale ed educativa per gli istituti comprensivi statali con preferenza per le scuole dell'infanzia dopo tanti anni l'amministrazione comunale torna a concedere i contributi per le attività all'interno delle scuole dichiara l'assessore all'istruzione Simona Galizia c'è stato un grande lavoro da parte degli uffici per raggiungere questo risultato anche in sinergia con il vice sindaco Magliani grazie al quale siamo riusciti a ristrutturare diversi istituti che ne avevano bisogno da tempo l'avviso scadrà il prossimo 16 dicembre e per tutte le informazioni potete leggere l'articolo su www.trcgiornale.it appuntamento speciale il prossimo 29 novembre alle 12.30 alla sala Gasman Paolo II nella cattedrale si svolgerà un incontro con la scrittrice Cristiana Cerroni autrice del libro La Bambina di Neve Cerroni è anche un insegnante e quindi affronterà al meglio anche la questione riguardante le nuove generazioni bene, termina qui la prima parte del nostro telegiornale ma naturalmente rimanete ancora sintonizzati con noi perché tra qualche istante ci saranno le notizie che riguardano lo sport e apriamo con il pugilato importanti novità per Michael Magnesi dalla convention annuale della federazione WBC che si è svolta in questi giorni in Uzbekistan grazie al lavoro della manager Alessandra Branco Michael Magnesi è riuscito ad ottenere una chance importante per dare la caccia al titolo mondiale silver dei pesi superpiuma Lone Wolf numero 6 del ranking dovrà sfidare in trasferta il giapponese Masanori Rikishi attualmente quinto per designare il secondo sfidante ufficiale per il titolo la situazione attualmente vede il campione Oshanik Foster che dovrà affrontare la difesa volontaria con il vincitore del match in programma il 25 novembre fra Vicente e Jakubov passiamo alla palla canestro vincere per presentarsi allo sconto diretto con la capolista Ciampino di sabato 25 novembre a sole due lunghezze di distanza è l'obiettivo che si è ormai prefissa la Stemar 90 cestistica a Civitavecchia che reduce da due vittorie consecutive cerca il Tris nel match in programma sabato sera nella capitale contro il Fonte Roma-Eure seguiamo Dopo una partenza non proprio sprint la Stemar 90 cestistica sembra aver trovato la dimensione giusta nel nuovo campionato di Serie C con il successo di domenica scorsa ai danni di Latina i rossonieri hanno ottenuto il secondo acuto consecutivo e soprattutto si sono portate al terzo posto con otto punti va ricordato che le prime sei del raggruppamento andranno a giocarsi il posto per la B2 nella pool pomozione anche se avranno già in tasca la salvezza mentre le altre finiranno in un gironcino per evitare di prendere uno dei sei biglietti per scendere nella divisione 1 sempre che non ci sia un aumento del numero è la prima volta dalla gestione La Rosa che la Stemar 90 incamera due referti rosa consecutivi non accadeva dalle prime due giornate della scorsa stagione quando Campogiani e compagni partirono battendo Grottaferrata e Frosinone sono state vittorie diverse commenta coach Gabriele La Rosa una nel finale in una partita molto combattuta l'altra frutto di una partita dominata sotto tutti gli aspetti la squadra sta crescendo come gruppo quest'anno lo sapevamo che avendo tanti innesti nuovi dovevamo trovare la quadra ci vuole tempo ancora dobbiamo limare tanto ma la nostra forza è quella di allenarci sempre bene avendo tutti dai più grandi ai più giovani che danno il massimo contributo alla causa ora i rossoneri sono attesi da una serie di gare che potrebbero far capire se possono veramente lottare con le migliori ed iniziare a pianificare una stagione lontana dalle zone pericolose magari con la voglia di combattere per i primi posti in un torneo che ovviamente risente fortemente dell'assenza di squadre storiche della regione promosse nella nuova B2 prima abbiamo Fonte Nuova riprende La Rosa sabato sarà una partita difficile con una squadra che ha sempre giocato bene e perso solamente nei finali dopodiché penseremo a Frassati e Tiber sappiamo di giocare conto squadre attrezzate e fisiche ma con la consapevolezza che anche loro dovranno preoccuparsi di noi sta tutto nel preparare e approcciarsi bene a queste partite poi una volta alzata la palla vince chi ha più voglia dell'avversario come detto dal tecnico arriva un ciclo di giornate che potranno dire molto riguardo la Stemar 90 in particolare c'è da segnalare quella di sabato 25 quando al pallaricucci arriverà la capolista Frassati che conduce la classifica e che fino all'ultimo turno era imbattuta passiamo alla pallavolo la diagnosi non è stata certamente simpatica ma neanche totalmente negativa per Veronica Guidozzi il capitano della Comal Cibitavecchia Volley nel corso del terzo sette della gara di sabato scontro contro la Sales la mattatrice arancionera ha rimediato un brutto infortunio che l'ha costretta ad uscire dal campo sorretta dalle proprie compagnie le prime indicazioni riferivano di un problema al collaterale della caviglia ma fortunatamente il risponso non è stato così drammatico infatti Guidozzi ha la frattura del quinto metatarso e rientrerà in campo solo nel 2024 la giocatrice ha già fatto un circoletto sul proprio calendario sul 20 gennaio in quel giorno la Comal avrà lo scontro diretto con la Lazio che potrebbe essere quello decisivo obiettivo dell'asso del gruppo di Alessio Pignatelli è di essere in piena forma per questo appuntamento vediamo ora il combattimento fine settimana di sorrisi per l'ICTA Gym che ha organizzato due eventi nel comprensorio seconda edizione del Day War record ICTA alla sala Jingle Palace del Bullying Time Out con grande afflusso di pubblico per una serata piacevole all'insegna dello sport e dell'arte marziali corredata dall'esibizione della scuola di danza Dance for Fly di Desiree Benevieri premiate anche le neocinture Combat da Civitavecchia a Tolfa per The Best Fighter ICTA Italia evento patrocinato dalla Libertas molti gli atleti provenienti da tutta Italia che si sono dati battaglia nelle regole della kickboxing e freeboxing professionalità fra istruttori e rispetto tra gli atleti sono stati i punti di forza di un evento diventato ormai un punto di riferimento per molti appassionati di sport da combattimento proseguiamo con il Rugby Old Rugby protagonisti per la 17esima edizione del Memorial Guerrino Buso Massimo De Angelo in programma sabato al Moretti della Marta dalle ore 15 la pallovale protagonista e tanti bravi fra giocatori che hanno appeso al chiodo da poco le scarpe ma che vogliono continuare ad onorare la loro passione a sfidarsi saranno Triari Urbe Old Rinos Nuovo Salario Old Frascati, Avezzano, Gran Riserva Roma e gli Old Civitavecchia al termine ci sarà il tradizionale terzo tempo con tanto divertimento e con sueti sfotto il Memorial Guerrino Buso Massimo De Angelo nasce dalla volontà degli amanti della pallovale nel ricordare giocatori che hanno contraddistinto il gioco del Rugby Bianco Rosso Passiamo al Karate successi ma anche sorprese per la Mabuni all'Open di Campania che si è svolta al Palasele di Eboli con 1500 iscrizioni a oltre 300 club presenti importanti per ottenere punti ranking e in quanto appuntamento tradizionale a livello nazionale Simone Conversini ha vinto il bronzo mentre Mattia Onorati ha ottenuto il quinto posto che gli permette di diventare settimo nel ranking nazionale buone prove per Bareri Rovetto e Davide Tosoni non è salita sul tatami l'asso della Shirai Ludovica Legittimo che si è dovuta rientrare anticipatamente per avere contratto una forte influenza la sera precedente della gara Legittimo comunque non aveva bisogno di imporsi ad Eboli perché ha già sicura del primo posto nel ranking con un abbondante vantaggio sulla seconda classificata quindi sarà proprio la piccola donna a ricevere il passe per gli europei bene, con il karate termina anche questa edizione del nostro telegiornale ma voi potete sempre rimanere collegati con noi su tutti i social precisamente su Facebook, Youtube, Instagram oltre che sul nostro sito www.drgiornale.it bene, ancora una volta vi ringrazio per la gentile attenzione e vi do appuntamento per le prossime edizioni buona serata